ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in un nuovo video di investire consapevole oggi parleremo di investire in azioni nel 2021 come iniziare da zero vi ricordo che questa è la terza parte di questa serie di video quindi se non l'avete ancora fatto andate a guardarvi la parte 1 e la parte 2 perché sono molto importanti per capire quello che diremo in questo video cioè le conclusioni di tutto il discorso prima di iniziare però vi ricordo come sempre di aiutarmi distruggendo il tasto dei like in modo tale da aiutarmi con l'algoritmo di youtube a diffondere la cultura finanziaria in italia vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e se avete voglia e di attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti ma non perdiamo altro tempo e iniziamo immediatamente oggi vediamo libri per investire in azioni studiare prima di cominciare a investire in azioni è una grande idea ma quali sono i migliori libri per imparare a investire senza errori il punto di partenza per chiunque voglia imparare è rappresentato dal corso di forex tb tra l'altro è un corso completamente gratuito a differenza di altri corsi che hanno un costo proibitivo perché suggeriamo di cominciare da questo corso perché è molto orientato alla pratica e perché tutti gli iscritti di forex tb vengono assistiti al telefono da veri esperti di borsa in pratica si può studiare e contemporaneamente fare pratica con l'assistenza di un esperto per coloro che vogliono comunque approfondire un po di teoria elenchiamo qui sotto alcuni dei più interessanti libri sulla borsa il primo che vi consiglio è l'investitore intelligente di intelligent investor in inglese è stato scritto però poi è stato anche tradotto in italiano l'investitore intelligente è un classico che esiste dal 1949 rivisto e aggiornato per l'ultima volta nel 2009 è considerato una sorta di bibbia per l'investitore principiante che cerca la tradizionale saggezza su come funziona il mercato e su come sfruttarlo al meglio il libro è in gran parte incentrato sul concetto di investimento di valore il cosiddetto value investment è sulla media del costo del dollaro la dollar cost averaging strategie che warren buffett ha utilizzato con non poco successo è scritto pensando all'investitore a lungo termine che dà priorità alla costruzione della ricchezza in modo graduale piuttosto che alla ricerca di vittorie a breve termine attraverso frequenti operazioni l'investitore intelligente non è necessariamente il libro più sexy o più appariscente che ci sia in giro sull'investimento per principianti ma compensa più che altro questo con un'abbondanza di consigli basati sul buon senso il piccolo libro che batte il mercato è il secondo libro che vi consiglio non sapete come scegliere i titoli per il vostro portafoglio o cosa rende un titolo migliore di un altro avete domande sul perché le azioni sono importanti per l'investimento se avete detto sì il piccolo libro che batte il mercato è un must pubblicato per la prima volta nel 2005 e aggiornato nel 2010 questo libro approfondisce le basi del funzionamento del mercato azionario e i principi essenziali per investire con successo nei singoli titoli greenblatt spiega anche la sua semplice ma collaudata teoria dell'investimento sul mercato azionario che si concentra sull'acquisto di aziende al di sopra della media a prezzi inferiori alla media il libro è scritto con la mente del principiante ed è stato concepito per aiutare gli investitori a costruire le basi per la scelta di azioni che possano portarli avanti nella loro carriera di investimento è facile da leggere e da capire il che lo rende facile da usare per il nuovo investitore che vuole evitare il complicato gergo dell'investimento terzo libro google non so se lo conoscete un grandissimo investitore sui fondamentali se non siete ancora pronti a tuffarvi nella raccolta di singoli titoli i fondi comuni di investimento possono essere la soluzione i famosi etf i fondi comuni di investimento sono raccolte di azioni obbligazioni e altri investimenti in un pacchetto conveniente in questo libro scritto dal fondatore di vanguard e leggenda dell'investimento john bugle imparerete come sviluppare un approccio efficace all'investimento in fondi comuni di investimento è uno dei libri di trading più completi sui fondi comuni di investimento per i nuovi investitori che copre i quattro tipi fondamentali di fondi azioni ordinarie obbligazioni mercato monetario e bilanciati google offre una guida su cosa significa adottare una strategia di investimento passiva e su come scegliere i fondi comuni di investimento in base alla performance e all'efficienza dei costi se stai cercando di saperne di più sull'investimento in indici in modo specifico allora google sui fondi comuni di investimento è una lettura classica da inserire nella tua lista investire in azioni coronavirus nel corso del 2020 il coronavirus ha letteralmente sconvolto il nostro mondo cambiando probabilmente per sempre le nostre abitudini e il nostro modo di vivere anche la finanza è stata sconvolta dall'arrivo del coronavirus ci sono azioni che sono state premiate e altre che sono state severamente punite parliamo di questo tema non perché vogliamo indicare quali azioni comprare ma per fare un esempio di alcune situazioni imprevedibili che si possono verificare quando si decide di investire in azioni attenzione imprevedibili non significa negative perché molti investitori ci hanno guadagnato quali azioni sono state premiate dal coronavirus ovviamente i titoli delle aziende farmaceutiche soprattutto di quelle impegnate nella corsa al vaccino come moderna o pfizer biontech o che producono farmaci più o meno efficaci contro il coronavirus ad esempio vi ricordo anche ad astrazeneca poi ci sono le aziende tecnologiche amazon in testa il fatto che la gente sia stata costretta a stare in casa ha aumentato notevolmente il livello del commercio elettronico chi ha perso con il coronavirus molte imprese tradizionali hanno subito una batosta durissima a partire dalle compagnie aeree molte sono fallite falliranno presto o saranno nazionalizzate chi investe in azioni con i cfd in ogni caso ha ottenuto un beneficio sia con le azioni che sono salite sia con quelle che sono scese vediamo un po di tirare le conclusioni di tutto il discorso che ci siamo fatti investire in azioni conviene solo a patto di utilizzare i servizi delle migliori piattaforme di investimento e solo con un'adeguata preparazione questo ragazzi ve l'ho sottolineato mi raccomando un'adeguata preparazione in ogni caso non possiamo dire nemmeno che sia difficile per prima cosa è possibile studiare gratuitamente ottimi corsi come questo in secondo luogo chi proprio parte da zero e non sa da dove cominciare può sempre copiare automaticamente i migliori investitori con etoro quindi vi ricordo se volete fare pratica potete guardare cosa fanno i migliori investitori su etoro anche senza metterci un centesimo se volete iniziare a studiare il corso gratuito di forex tb come investire in azioni in primis scegliendo una piattaforma professionale in secondo luogo operando con contratti cfd gratuiti ed infine studiando bene il mercato azionario di riferimento quali sono le migliori piattaforme per comprare azioni per varietà di asset a disposizione e per condizioni di mercato etoro e forex tb sono un gradino sopra la concorrenza quindi ragazzi investire in azioni conviene da sempre l'investimento azionario è uno dei più utilizzati dagli investitori di tutto il mondo le sue performance storiche sono in netto rialzo sarà quindi fondamentale scegliere il timing giusto per il nostro investimento meglio investire in azioni o in obbligazioni molto dipende dal rischio dell'investitore cioè dalla sua tolleranza al rischio per meglio specificarlo ad oggi le obbligazioni rendono pochissimo mentre con un livello di rischio poco più alto il comparto azionario offre maggiori soddisfazioni in termini di rendimenti bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione di questa mini serie su come investire in azioni vi ricordo di fare sempre le vostre analisi prima di investire e vi ricordo altresì che questi video non sono sponsorizzati dalle piattaforme lasciate un commento se volete vi ricordo inoltre di lasciare un bel like a questo video per aiutarmi iscrivetevi al canale se vi va e se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti